Come ci si sente oggi? Preoccupati? Più domani, che ce l'avessi in latino Una grande prova di maturità l'avete già data in tempo di pandemia, di covid, tenendo duri momenti difficilissimi Sono giorni involgenti, ma sono giorni che, ve l'avranno detto tutti, vi resteranno nel cuore Oggi nessuno ci crede, ma quando poi si arriva alla nostra età invece si capisce che è così Sono quei giorni che hanno poi fatto la differenza Sicuramente abbiamo avuto un ottimo esempio da parte dei nostri studenti, delle nostre studentesse Per capire come ancora più motivarli e come essere ancora più vicini Sicuramente il futuro lo sarebbe ancora più Come sarà questa maturità rispetto a quelle passate? Si ritornerà alla maturità di qualche anno fa, quindi prima della pandemia E in qualche modo ancora di più verrà valorizzata l'esperienza che hanno fatto a scuola Come sono queste tracce di maturità che hai appena visto? Sono sicuramente complesse, molto ricche, direi variegate Quindi possono rappresentare, credo, molte sensibilità E credo possono andare incontro anche alla preparazione dei ragazzi A seconda del percorso personale di quello che loro hanno scelto Sicuramente sono da leggere molto bene Mi aspettavo, devo dire, Piero Angela In qualche modo me lo aspettavo E quindi interessante vedere come un tema di attualità E una persona di così grande rilievo possa magari entrare nei temi della maturità E mi ha colpito sicuramente quella su WhatsApp Perché apparentemente più semplice Secondo me impone una riflessione abbastanza approfondita sull'utilizzo dei social